Grazie a tutti. Di consigliere giuridico della rappresentanza italiana presso l'Unione Europea, il che gli ha consentito di esaminare, di sviscerare con particolare precisione tutti questi aspetti che non si spiegano se non alla luce del lungo e complicato negoziato. Certo, la figura che ci ha tratteggiato ha veramente delle caratteristiche uniche. Io mi chiedo per esempio come si possa facilmente immaginare una responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario commessa dal Tribunale di Buccarest. Ammesso che ci sia una divisione locale a Buccarest, insomma, ovunque questa possa essere collocata. Cioè è veramente un fenomeno che non ha equivalenti nella nostra esperienza internazionalistica e che quindi sicuramente potrà dare luogo a tanti dubbi, a tante discussioni. Ma procediamo ora con le nostre relazioni e passiamo al punto di vista, per questo particolarmente interessante, di un operatore del sistema giuridico e precisamente della dottoressa Marina Tavassi, che come tutti sanno è presidente della sezione specializzata del Tribunale di Milano, che ci riferirà sulle rules of procedure e il rapporto tra Tribunale Unicato e giudice nazionale. Dottoressa Tavassi ha la parola. Tanto posso procedere ai ringraziamenti oltre al Presidente per avermi dato la parola alla professoressa Onorati per questo invito e per questa splendida organizzazione. Il tema che mi è stato affidato è effettivamente un tema più operativo dei discorsi che ci hanno impegnato finora, perché il compito di esaminare le rules of procedure mi ha portato naturalmente ad impegnarmi più nel dettaglio rispetto a quelle che sono le norme che devono provvedere alla organizzazione di questa corte di cui stiamo parlando. Il mio impegno su questo argomento non è nuovo, perché nel tempo sto seguendo da diversi anni lo sviluppo degli accordi e anche delle rules. Per le rules abbiamo avuto dei testi che si sono succeduti con una certa rapidità. Abbiamo diversi successivi draft, tanto che questo di cui stiamo parlando è il quindicesimo, datato 31 maggio del 2013, ed è questo di cui io mi sono occupata, naturalmente facendo però uno stralcio di tutte le norme. Mi sono occupata soltanto di alcuni temi, per il resto rimando un po' alle mie slides, che non farò in tempo, suppongo nemmeno ad illustrare, per intero e naturalmente ai riferimenti alle norme che potrete leggere nel dettaglio, anche nell'estratto che è stato distribuito, oppure nell'intero testo. Come vedete le rules si compongono nel testo attuale di ben 382 articoli. Sono organizzati in sei parti. Al momento attuale dobbiamo registrare qualche lacuna dell'indice, che pure vi è stato distribuito, perché a volte è saltata l'indicazione delle parti, a volte non c'è una successione ordinata nelle norme, quindi probabilmente anche questo deve ancora essere sistemato. Oltre che la divisione in parti abbiamo la divisione in capitoli, sezioni e naturalmente articoli. Come vi dicevo, l'ultima versione ha accorpato, ma già forse la precedente, ha accorpato molte delle regole che erano invece diffuse addirittura in 511 norme, per esempio nella versione del marzo del 2012, ha introdotto a volte delle nuove disposizioni, ha regolato alcuni punti critici, come il meccanismo del periodo transitorio e dell'opt-out, qui è dedicata la rule 5, e naturalmente le regole devono essere lette in costante accordo e coordinamento con le norme del trattato, dell'accordo sull'Unified Python Court. Perché? Perché noi siamo nel nostro ordinamento nazionale abituati ad una distinzione più netta fra norme di carattere sostanziale e norme processuali, qui invece abbiamo che le norme processuali trovano il loro fondamento nelle regole dettate dall'accordo sulla Unified Patent Court, e quindi bisogna sempre e costantemente averle presente. Il regolamento di procedura inoltre deve anche confrontarsi con lo statuto, perché per esempio lo statuto dei giudici, la regolamentazione che riguarda le persone fisiche dei giudici, la loro selezione e il loro trattamento, si trova nello statuto più che non nelle rules of procedure. Il regolamento, dice l'articolo 41 dell'agreement, fissa i dettagli dei procedimenti davanti nella traduzione italiana tribunale, perché questo è il riferimento che noi di solito abbiamo, è la definizione che noi di solito utilizziamo per i giudici di primo grado, forse si sarebbe potuta cogliere l'occasione anche nella traduzione italiana di utilizzare il termine internazionale di corte, corrispondente al court che viene usato nel testo inglese. Il regolamento di procedura è stato adottato da un comitato creato apposta, formato da giudici e avvocati esperti nella materia, attraverso appunto ampie consultazioni, come era comandato dall'articolo 41, tant'è vero che una delle varie consultazioni, cui io e altri colleghi italiani abbiamo partecipato, è tuttora in corso e la scadenza è al primo di ottobre per far giungere osservazioni su eventuali problematiche che si siano evidenziate. Io personalmente ho già evidenziato quella che a mio avviso è una problematica seria che riguarda il processo cautelare di cui parlerò nell'ultima parte del mio intervento e della mia analisi. Uno dei temi cruciali, abbiamo già visto che è stato trattato in diverse relazioni che hanno preceduto la mia, riguarda il periodo transitorio e la regola dell'opt-out. La regola dell'opt-out trova il suo fondamento nell'articolo 83 dell'agreement e prevede appunto un periodo transitorio di sette anni che sono poi ulteriormente suscettibili di essere procrastinati dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, con la possibilità che il comitato amministrativo possa decidere di prolungare il periodo transitorio, mi pare di capire, di ulteriori sette anni, ma forse sbaglio perché ho sentito dire prima che la totalità del periodo transitorio potrebbe aggiungere a dodici anni, quindi forse sette, sette più cinque. Ecco, io faccio una premessa difensiva. Il districarsi fra appunto le norme dell'agreement, le norme delle rules e quelle dello statuto può sicuramente avermi fatto cadere in qualche errore o in qualche mancanza. L'analisi attenta e dettagliata richiede molto molto tempo e ci potremmo dedicare anche prossimamente per seguire poi nel tempo l'evoluzione ulteriore di queste rules. Come funziona il meccanismo dell'opt-out? Ecco, come appunto è previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 83 dell'agreement, è possibile che il titolare o chi ha presentato una domanda di brevetto rinuncia alla competenza esclusiva della Corte. Per fare ciò dovrà notificare un'apposita application al registry della Corte e le modalità e le tipologie, le scadenze entro le quali si dovrà presentare o si potrà presentare questa application sono regolate in particolare dalla rule 5 e poi dalla rule 340 per quanto riguarda le modalità con cui questo tipo di application per l'opt-out sarà organizzato dal registry. Due possibilità per l'opt-out. O l'opt-out sulla singola azione, e cioè naturalmente nell'ambito del periodo transitorio e naturalmente prima che sia radicata già un'azione che riguarda quel brevetto, il titolare del brevetto della domanda potrà presentare la sua dichiarazione di non voler aderire al sistema o di non voler sottoporre quella certa azione alla competenza della Unified Patent Court. Altra possibilità invece è quella che si faccia in via ancora più anticipata una rinuncia generale, una declaratoria di non voler partecipare in termini generali e questo naturalmente comporta la necessità che anche questo tipo di dichiarazione sia fatta prima che ci sia un avvio di un'azione giudiziaria che riguarda quel brevetto davanti alla Corte unificata e può determinare anche la possibilità di una successiva rinuncia a questo tipo di esclusione. A sua volta però questa rinuncia non può essere ulteriormente revocata. Bisogna ad un certo punto decidere definitivamente se si vuole aderire o non aderire. Ecco, non mi dilungo sull'ulteriore particolarità delle modalità di presentazione dell'application che in parte dipende anche dai tempi che vorrà assegnare l'Apple, l'European Patent Office e che come vedete sono articolati nel paragrafo 9 dell'articolo 83 e del paragrafo 9 della Rule 5. Ecco, questi sono i compiti del registro in relazione a questo tipo di application e passiamo adesso invece ai meccanismi di funzionamento della Corte. Sappiamo che la Corte è una Corte comune agli Stati membri che per quanto riguarda la Corte centrale è finanziata interamente dai contributi degli Stati membri mentre gli Stati che ospitano la divisione locale o le divisioni locali e che si sono organizzati per avere la divisione regionale devono farsi carico anche di quelli che sono i costi di queste sedi. Il suggerimento che è dato dalla Grimet è che il sistema delle spese sia semplice e chiaro e che i costi si orientino verso un livello medio-basso e naturalmente, come abbiamo già sentito dire, è ancora tutto da definire che cosa si voglia intendere come costo medio-basso. Organizzazione delle corti Sappiamo che la Corte d'Appello ha avuto la sua sede definitiva all'Ossemburgo la Corte d'Appello decide con una composizione di cinque giudici nell'ambito della Corte d'Appello potranno essere coinvolti anche i giudici tecnici poi torno su questo punto del giudice tecnico che per quanto riguarda l'ordinamento italiano è una novità. Le corti di primo grado invece si articolano in una divisione centrale la cui sede è appunto stata individuata in Parigi con le due sezioni di Londra e Monaco poi sempre nell'ambito delle corti di primo grado la divisione locale o le divisioni locali perché è possibile che uno Stato membro possa chiedere un numero superiore di divisioni locali fino ad un massimo di quattro. Le ulteriori divisioni sono consentite, dimensionate rispetto al numero dei brevetti che vengono presentati come nuovi procedimenti per tre anni consecutivi in quello Stato parametrato a 100 ogni 100 è possibile chiedere una divisione locale in più. Le divisioni regionali si devono invece organizzare autonomamente laddove uno o più Stati membri abbiano intenzione di associarsi e di richiedere questo tipo di corte e naturalmente si occuperà dei casi di diversa localizzazione nell'ambito della divisione degli Stati che partecipano alla regione e alla divisione regionali. La composizione, ecco, altra cosa da dire prima di passare alla slide successiva è quella che la divisione locale potrà essere composta anche dal giudice singolo e che sarà in potere delle parti che riedere il giudizio di un giudice monocratico anziché del collegio. Ecco, questa è la distribuzione dei casi nell'ambito della divisione centrale davanti alla sede di Parigi dove risiederà anche il gabinetto del Presidente e le sezioni di Londra e di Monaco lo potete vederlo con un colpo d'occhio e passo oltre e un tema che naturalmente è quello che ha suscitato le maggiori criticità parallelamente al problema linguistico che coinvolge la modalità di deposito del brevetto è quello della lingua, della procedura giudiziaria. Qui ci sono varie alternative che si possono sia scegliere all'inizio dell'azione giudiziaria quando l'azione viene radicata sia in linea generale da parte delle divisioni regionali che possono indicare una lingua scelta o fra le lingue della regione ovvero una lingua diversa per esempio dichiarare che intendono sempre adottare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto sia la possibilità che nel corso dopo che l'azione è stata avviata il collegio o poi vedremo più nel dettaglio su richiesta di una delle parti o su richiesta del judge rapporteur possa sempre una volta raccolto l'accordo delle parti decidere per motivi di il collegio per motivi è detto di praticità e di equità il presidente del collegio per motivi di equità e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti quindi in sostanza fare una valutazione di tipo discrezionale per decidere di adottare la lingua in cui è stata adottata nel procedimento con il quale è stato rilasciato il brevetto anziché la lingua che presso quella divisione regionale o locale si sia per esempio scelta in via generale davanti alla divisione centrale la lingua è la lingua del brevetto ma anche qui c'è la possibilità di cambiamenti che poi vedremo dopo davanti alla corte d'appello la lingua è quella adottata in primo grado ma è possibile che le parti convengano e chiedano quindi alla corte di utilizzare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto se per caso in primo grado è stata utilizzata un'altra lingua quindi nel tempo questo procedimento immaginiamoci il nostro fascicolo processuale si potrà articolare in una parte sì qualcuno sorride ma ce la caveremo in una parte in una lingua e nel grado di appello in una lingua diversa qui c'è una norma che è stata introdotta per proteggere la situazione di quello che si ritiene essere la parte più debole cioè il convenuto il quale può sempre chiedere che ci sia una traduzione se non di tutto quantomeno di quei documenti che sono redatti nella lingua che non è di ottima conoscenza per il convenuto ecco come vi dicevo i cambiamenti che possono sopravvenire queste sono le rules da 321 a 324 le quali prevedono questa possibile torre di babele nel cambiamento della lingua della procedura in una fase e nell'altra ecco io qui ho scritto un po' i criteri in base alle quali i giudici possono decidere di cambiare la lingua sono tutte le varie ipotesi che si trovano nelle rules e cioè appunto il cambiamento può essere determinato on the grounds of convenience and fairness oppure sull'accordo delle parti o su richiesta del judge rapporteur su richiesta di una sola parte con possibilità della corte di esprimersi in via discrezionale sulla quale lingua scegliere ecco e la cosa interessante è che mentre come dirò poi in seguito il provvedimento cautelare non ha un appello la decisione sulla lingua che viene utilizzata davanti alla corte può essere soggetta ad appello come può essere soggetta ad appello e lo vediamo in un'altra slide dopo la decisione che riguarda i costi che riguarda le spese giudiziali e effettivamente il confronto rispetto a quanto vi dicevo prima che invece manca un appello sulle misure cautelari mi sembra che dia luogo ad uno spazio di riflessione che a mio avviso ed è anche questa la segnalazione che io avevo fatto anche nelle mie precedenti osservazioni andrebbe sicuramente integrato anche per rispettare gli impegni degli accordi TRIPS e quelli che sono un po' gli orientamenti di tutti gli ordinamenti più avanzati nella tutela della proprietà industriale e non solo ecco i giudici l'organizzazione delle corti è numericamente diversa e anche diversa e l'estrazione dei giudici che vi partecipano per la divisione locale di uno Stato che ha avuto per tre anni consecutivi meno di 50 procedimenti relativi a brevetti per ciascun anno ci sarà un giudice nazionale e due giudici di altri Stati assegnati con la regola del caso per caso se quella stessa divisione invece è localizzata in uno Stato dove ci sono stati 50 o più procedimenti ci saranno allora due giudici nazionali e un giudice di altro Stato per quanto riguarda la divisione regionale ci saranno due giudici scelti nell'elenco regionale dei giudici che hanno la cittadinanza negli Stati membri che partecipano alla Regione e un giudice che proviene da un altro Stato ma più che non la nazionalità dei giudici quello che interessa è la loro qualifica perché qui abbiamo una distinzione fra giudici qualificati sotto il profilo giuridico e giudici tecnici noi siamo abituati a distinguere i giudici togati magari quelli non togati la dizione utilizzata dalla Grime e dalle Rules è questo giudici qualificati sotto il profilo giuridico e sotto il profilo tecnico è possibile che il pool dei giudici e cioè i tre giudici per il primo grado e i cinque giudici per l'appello sia integrato con la presenza di un tecnico esperto del ramo in appello due tecnici il collegio comunque deve essere sempre presieduto dal giudice che sia il giudice togato cioè il giudice qualificato sotto il profilo giuridico il collegio su richiesta di una delle parti il collegio di una divisione locale o regionale su richiesta di una delle parti dice l'articolo 8 paragrafo 5 dell'agrime ma ciascuna parte o il judge rapporteur dicono le Rules 33 e 34 delle Rules of Procedure possono chiedere la presenza del giudice tecnico nella divisione centrale ci sono due giudici qualificati sotto il profilo giuridico tre nelle azioni di nullità come poi vedremo e poi un giudice tecnico con qualifiche ed esperienze nello specifico settore naturalmente il giudice tecnico è cosa ben diversa dal appointed expert della corte che equivale al nostro CTU al nostro consulente tecnico di ufficio e che pure è figura prevista dalle Rules dalla Rules 57 è possibile che la corte oltre ad avere questa composizione assortita fra esperti qualificati sotto il profilo giuridico e tecnici possa anche ritenere di doversi avvalere di un tecnico esperto che allora svolge il ruolo del consulente all'esterno del panel che si fa carico della decisione ci sono poi due norme l'articolo 32 e l'articolo 33 del agreement che si fanno carico di indicare quali sono le azioni che possono essere proposte davanti alle corti e quindi innanzitutto l'azione di contraffazione l'azione di accertamento negativo di contraffazione le azioni cautelari le vedete tutte elencate sono le azioni che siamo abituati a venire a proporre già nell'ambito del diritto nazionale interno e nell'ambito del ruolo assegnato ai giudici nazionali dal brevetto europeo vecchio stile come è stato appunto detto gli organi giurisdizionali nazionali degli stati membri rimangono competenti a conoscere naturalmente delle azioni relative ai brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale quindi secondo quel panorama, quello schema che già ci ha tracciato stamattina il professor Di Cataldo i brevetti nazionali i brevetti comunitari europei old style i brevetti che non rientreranno comunque nella competenza della Unified Patent Court e qual è l'altro spazio che i giudici nazionali dovranno rivestire anche quando sono giudici che compongono la Corte la Unified Patent Court, la UPC sarà quello di portare comunque nell'ambito della decisione della Corte la loro esperienza e in forma residuale anche le leggi nazionali del loro sistema così lo ho inteso io però non sono sicura di quanto vi vado a riferire perché è previsto che in via residuale dall'articolo 24 dell'agreement è previsto quali sono le norme cui le corti della UPC devono fare riferimento ed è previsto che in via sussidiaria si faccia riferimento alla legge nazionale ma non è molto chiaro alla legge nazionale di chi cioè dei giudici che partecipano delle parti, del convenuto per quella forma di protezione nei confronti del soggetto più debole quindi rimane questa possibilità ancora non molto definita che mi sembra, ripeto, sempre con le lacune che la mia analisi può avere mi sembra non sia meglio chiarito nemmeno dalle rules ecco, le competenze io poiché il tempo passa in fretta e non vi voglio annoiare molto con i dettagli e poi su questo tema specifico il professor Ricolfi interverrà con il discorso del bifurcation io mi fermo qui vi do soltanto un glance di queste due slides che riguardano appunto l'articolo 32 e l'articolo 33 dell'aggliment che si occupano di dividere fra corti centrale, corte regionale e locale le competenze in relazione alle azioni e vediamo invece adesso come si snuda la procedura la tecnica con la quale sono state costruite le rules ci lascia un po' perplessi forse se non altro perché noi non siamo abituati a lavorare noi come italiani, come giudici abituati ad utilizzare il nostro codice di procedura civile non siamo abituati a lavorare con questa impostazione strutturale delle regole di procedura perché? Perché qui si divide non solo in linea generale il processo in cinque fasi quelle che vedete elencate ma a secondo della tipologia di azione che si va a radicare se è per esempio un'azione di nullità o un'azione di contraffazione o un'azione di contraffazione le regole di procedure cioè le modalità di comportamento cambiano e quindi esiste un blocco di rules che hanno il compito di dare un quadro generale e poi nel dettaglio si definisce non solo quello che si deve fare in ogni singola fase ma anche quello che deve essere fatto a fronte della peculiare azione che si va a radicare e così fase scritta fase interinale che in pratica si rivolge in un case management in cui il judge rapporteur deve organizzare le successive fasi del processo una fase orale quindi l'udienza di discussione fase che non è obbligatoria una successiva fase separata per la quantificazione dell'esercimento ed un altro procedimento ancora per la procedura per le spese è sempre raccomandato in ogni fase del procedimento il tentativo di conciliazione e anzi l'avvio da parte dei giudici un po' quello che nel nostro ordinamento si è verificato adesso della mediazione delegata l'invito alle parti da parte della Corte di rivolgersi al Patent Mediation and Arbitration Center ecco queste sono le modalità con le quali per esempio si radica l'azione per contraffazione l'azione per contraffazione è il procedimento base le altre azioni l'azione di nullità l'azione di non contraffazione l'azione per i risarcimento del danno eccetera si devono improntare a delle regole specifiche che sono dettate per le varie tipologie che ho elencato ma in linea generale e in via residuale ove non diversamente disposto fanno riferimento a questa tipologia di azione regolata dalle rules 12 e 13 ecco l'azione di nullità come vi dicevo che ha un'altra tipologia di regolamentazione le rules 43 e 58 l'azione di non contraffazione nella successione appunto le rules 60 e 69 e poi ecco questo è il case management di cui vi dicevo prima come procedura interinale che è affidata al judge rapporteur ma può poi essere rivista una volta che il judge rapporteur riferisce al collegio e può essere appunto il collegio a rivedere un po' le direttive impartite dal judge rapporteur anche su motivata richiesta delle parti ed ecco anche qui la peculiarità che anche questo tipo di fase interinale di tipo organizzativo può essere portata in appello creando a mio avviso un ostacolo ad uno svolgimento più rapido più coerente più ordinato perché naturalmente si aprirà una fase per quanto rapida di appello su come si deve organizzare il procedimento ecco il giudizio si chiude poi con questa fase orale non necessariamente obbligatoria ma che può essere disposta e ecco io concludo perché poi vi sarà messo a disposizione il testo delle mie slide intrattenendovi due minuti sulla procedura cautelare perché questa scelta perché voi naturalmente sapete quanto spazio non solo nel diritto italiano ma credo anche in altri sistemi sicuramente nella mia esperienza anche in altri sistemi abbiano i procedimenti i provvedimenti che possono essere assunti nel procedimento cautelare la tipologia dei provvedimenti come vedete elencata è simile a quella del nostro sistema tranne la possibilità di richiedere il blocco dei conti bancari e degli altri beni che voi sapete nel nostro ordinamento è solo eccezionale è significativo che ci sia espressamente l'obbligo per la Corte sia pure nell'ambito della sua discrezionalità di valutare il bilanciamento degli opposti interessi anche la procedura cautelare si articola in una fase scritta e in una fase orale la fase scritta si può avviare sia con il deposito da parte di chi richiede un procedimento un provvedimento cautelare di una memoria scritta corredata dalla necessaria documentazione e sia da questa protective letter che appunto è la protective letter che a volte abbiamo visto anche essere presentata e dichiarata inammissibile nel nostro ordinamento mentre qui è sicuramente ammissibile ed ha tutta una sua una sua struttura la procedura cautelare si può svolgere anche inaudita al teraparte in questo caso dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare la parte che lo subisce entro dieci giorni può chiedere di essere sentita ma come vi dicevo non è possibile invece che la parte che subisce un provvedimento cautelare sia pure dopo essere stata nel pieno contraddittorio dopo essere stata sentita in udienza aver potuto depositare memorie scritte e documenti una volta che è risultata succondente né la parte che subisce la misura cautelare né la parte che si è vista rigettare un'istanza cautelare è legittimata a chiedere una revisione a chiedere una impugnazione ecco questo è quanto vi ho detto per quanto riguarda la procedura inaudita al teraparte naturalmente la decisione avviene in maniera simile al diritto interno e anche alle regole europee sul fumus boni iuris e sul periculum in mora la possibilità delle misure cautelari di divenire definitive come accade ormai nel nostro ordinamento non esiste perché entro 31 giorni di calendario 20 giorni lavorativi deve iniziare il giudizio di merito diversamente la misura cautelare decade ed è revocata ecco il rinvio pregiudiziale alla corte se ne è già parlato e quindi io con questo vi ringrazio e chiudo la mia relazione grazie 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 grazie